Per una gita nella natura selvaggia Addio ragazzi! Ecco quante nozioni di sopravvivenza da rasse La natura deve essere esplorata! Cazzo! Lezione numero uno Primo soccorso Un po' da non passi nel regno Oh gente rasse, mi sono graffiato una nocca Innanzitutto valutare l'entità della ferita Ci vuole solo un gerottino Che dio i gerotti! Poi decidere la cura appropriata Infine, niente panico Sono seco! Oh, sta fermo Restate con noi per altre lezioni di sopravvivenza Come va? Io mi chiamo Doug Ti ho appena conosciuto e ti voglio fare Off! Ottobre al cinema Possiamo tenerlo, lo proviamo! No! Ma quello è un cane che parla! Adesso Grazie! Grazie!